Presidente, come nasce l'idea di questo documentario che testimonia che cosa è successo quel giorno dell'8 novembre 1943 qui a Villa Dossola? Mi piace dire che questa idea non nasce da noi di ampio, ma direttamente da Marzio Bartolucci che un giorno ci ha proposto questa sua iniziativa, dicendo se fossimo interessati eventualmente in un documentario che avrebbe raccolto lui in onore dell'8 novembre, se ne faceva carico di tutto e Promessa è stata mantenuta. Un documentario che trae spunto da quello che è il libro di Carlo Squizzi che racconta quell'8 novembre? Sì, tutti gli spunti sono stati presi da quel libro, non c'è niente di più che quello che c'è in quel libro solo che è stato montato, mi dicono, in una maniera che è anche facile da capire, facile interpretare per tutti anche per i più giovani che magari non hanno sentito raccontare più volte queste cose e in più contiene le testimonianze di tante persone che non sono più tra noi e sarebbe buon conto tenerne sempre conto appunto. Ecco, noi siamo qui nella sala storica di Villa Dossola, un posto caro all'Ampi nato per volontà tanti anni fa di ex partigiani, ex deportati e lei mi diceva un luogo che oggi viene visitato da scolaresche anche fuori Villa Dossola. Sì, sì, assolutamente, ci sono un sacco di scuole, abbiamo avuto Casale Monferrato, abbiamo avuto Chivasso abbiamo avuto un sacco, pullman, parlo proprio di pullman, magari due o tre pullman alla volta con anche difficoltà nell'accesso a questa sala perché ha i suoi limiti, è datata insomma in una certa maniera andrebbe un po' rivoluzionata però ci fa piacere perché è frequentata, soprattutto da quando il 25 aprile di quest'anno abbiamo inaugurato anche il nostro sito ufficiale della sala storica e abbiamo avuto un sacco di contatti ed è bello perché in pratica il sito nuovo prevede che ci sia tutta la documentazione fotografica, di archivio eccetera di quello che abbiamo in questa sala, addirittura anche documentazione in più quindi qualora qualcuno fosse interessato a documentarsi o cosa, o dal sito o qua può venire contattandoci in qualsiasi momento ricordo che questa sala, la sala storica fu voluta nell'83, fu fondata da appunto come avevi detto tu, ex partigiani, ex deportati che raccogliendo le loro testimonianze, anche fotografiche dove sono importantissime ci hanno regalato e continuano a regalarci queste cose grazie